Io la mia non provo ancora, a chi gli serve un po' di soldi, di tessere, di cose? No, più che altro per i documenti, sempre qua è così. E' un brutto neanche i documenti qui? No. E cos'è che erano trovati? Che cazzo ne so, l'ho trovato lì, la tessera era bella e becchia se vuoi. Non c'è neanche i documenti, se non c'è la madonia. Non è lasciato dentro niente. Ma qua di solito, o qui o l'altro ponte, li trovi sotto sempre. Ma qui è da 60 centimetri, appena. Di là, è l'unico punto che si può passare di qua, ma anche di qua se l'avrà scavato. Non riesci, non riesci mica qua. Dobbiamo salire, uscire e scendere. Non facciamo cazzate. No, no, la neghi qua. Lì sarà peggio. Così qui dentro. Eh, te l'ho detto. Ciao. Ma lì, guarda come va dentro tutto il bambino, guarda. No, ma lì c'è la cresta, come sempre, perché guarda che poi si slarga fuori e ti anneghi. Andiamo, andiamo in su di nuovo, andiamo al buco del vampiro. Andiamo di là, andiamo su dove sono andato io l'altra volta. Arriviamo al campo e poi andiamo... No, ma di là ci passi però. Un po' appucciato. Sì, arrivi fino a là. Eh, dove...